Ciao a tutti, benvenuti in questo video speciale 2000 iscritti io non avevo mai fatto speciali questo qua è il primo e volevo farlo appunto veramente speciale cioè per avere un video in più volevo fare qualcosa per voi quindi volevo mettere come contest giveaway non so come non so sinceramente come si vede adesso comunque un giveaway per darvi fallout 4 o black ops 3 se giocate su pc quindi chi partecipa e gioca su pc riceverà la copia digitale di fallout 4 o black ops 3 vi lascio la scelta perchè questi due giochi? perchè sono quelli che io attendo di più quindi sono questi che voglio trasmettere ai miei iscritti e invece chi giocherà su xbox riceverà la gift card da 30 euro quindi il codice regalo praticamente di 30 euro su xbox live e invece per chi gioca su playstation network riceverà invece un gift card c'è una carta praticamente prepagata il codice della carta prepagata di 35 euro perchè 35 la playstation e 30 lxbox non lo so ma i prezzi sono quelli quindi sono questi prezzi e cosa c'è da fare per partecipare? allora innanzitutto essere iscritti al mio canale quello mi pare ovvio poi dovete mettere il mi piace alla pagina facebook che c'è in descrizione a questo video e poi scrivere qua sotto come commento partecipo e lascerò aperto il contest per una settimana e dopo di che selezioneremo il vincitore ciao a tutti e buona fortuna ciao a tutti e buona fortuna Grazie a tutti.